Mi avete chiesto come fare a riconoscere quelli che giustamente molti definiscono fuffaioli, venditori, pentolari online. Allora, in generale, occhi aperti quando qualcuno vi vuole vendere qualcosa, ok? Se siete un privato, se siete un'azienda, la cosa è diversa. Anche perché sono pochi quelli con una forte etica, la maggior parte cercano di vendere, punto, attraverso qualsiasi metodo. Anche perché passa il concetto che i soldi sono uguali a successo. Cioè, la prima cosa che spesso si chiede è, ma poi lui gli ha fatti veramente i soldi? Questo è un tema importante, ma ha ammesso che li abbia fatti, il punto è come, ok? Perché ovviamente anche i ladri, per fare un esempio per l'assurdo, ottengono soldi, ma non per questo lo fanno in modo etico o legale. Per aumentare il valore percepito, e che quindi può aumentare la possibilità di vendita, ci sono, utilizzano varie tecniche, da, come dire, quelli più base, che attingono proprio al tessuto più di base, che si fanno vedere nella piscina, dicono, ehi schifosoni, venite qua, che vi spiego io come fare a diventare ricco, ah ah ah, con la Ferrari, con le cose, eccetera. A quelli che utilizzano metodi un po' più, come dire, raffinati, pagano pubblico e redazionali su giornali noti, ce ne sono alcuni, non tutti, che ovviamente danno la possibilità a chiunque di pagare per ottenere un report dicendo quello è il più grande, fanno magari le classifiche tra i più, come dire, i manager o gli online marketer migliori. Un'altra caratteristica che utilizzano per farsi notare è ritoccare un po' il curriculum, anche perché spesso molti di questi non ce l'hanno, come dire, di settore, però hanno imparato a vendere, magari leggendo qualche libro americano, per cui se vedete qualche incongruenza nel curriculum, probabilmente anche quello che venderà sarà finto. Altri sono ancora più elevati, cercano di farsi vedere insieme a VIP, insieme a personaggi famosi, magari li intervistano in questo modo, anche fuori dal loro contesto, dal loro settore, anche questo è un metodo, come dire, per capire che in fondo, se uno è esperto di, che ne so io, biologia, probabilmente non sarà interessato a intervistare il cuoco, ecco, già il fatto che intervisti vuol dire che è un intervistatore, già di concetto, no? E poi magari proprio ti vendono cose digitali per diventare un guru del marketing, altri magari si fanno invitare ad eventi per far vedere che sono ad eventi, ad esempio il TEDx, che è un evento interessante, ci mancherebbe, ma chiunque in fondo può partecipare ed è diverso dal TED americano, che invece ha selezioni molto complesse, e quindi insomma c'è chi non la sa questa differenza, e fanno spacciare la loro partecipazione al TEDx come partecipazione al TED, ok? In generale cercano pubblico debole, ok? Che in qualche modo ha bisogno, debole senza, come dire, giudizio, ma debole, cioè che in un momento di difficoltà, nella vita ci siamo passati tutti, e che quindi è più propenso a credere alla storiella del diventare ricco, banalmente cercare di fare qualsiasi tipo di corso, pur di riuscire a portarsi a casa dell'esperienza. Dovete sapere che nella maggior parte dei casi, questa esperienza che loro vendono è disponibile gratuitamente, ovunque, su YouTube e via in vari altri siti. Loro ovviamente non ve lo dicono. Altri sono di basso livello, cercano di vendervi con formule segrete, che lui ce l'ha fatta e lui lo sa, metodi per fare soldi, per eccetera. Altri ancora attraggono il pubblico con metodi misti, quindi fanno magari dei video in cui dicono ce la puoi fare, liberati dalle catene, il tuo capo ti stressa, devi fare così, devi fare così, e poi magari a fianco ti vendono il corso per diventare competente in qualche cosa. Di solito cercano di colpire proprio chi ha bisogno, paradossalmente di lavoro, un pubblico normale che cerchi alternative, soprattutto in questo momento in cui il digitale si vede, ma in realtà lo si vede da vent'anni, però adesso ci si rende veramente conto che è un po' tardi e che quindi bisogna convertirsi. Come fanno a proposito di conversione a convertire in soldi poi tutto questo? Di solito appunto o vendono corsi che ti insegnano a fare qualcosa, che magari ti spacciano per, come dire, un corso che ti insegna delle competenze, quando in realtà ti porta delle testimonianze, perché c'è una grande differenza quando all'università insegni, per esempio, nei miei corsi, cosa succede? Porti della didattica, dei modelli che si possono applicare, insomma, comunque in generale un approccio scientifico alle cose che richiede il suo tempo. E in più hai anche un testimonial, cioè uno che arriva e ti dice che lui nella sua verticalità ha ottenuto questo. Ed è bellissimo da sentire, molto importante, ma è ben diverso dalle basi di settore che anche se apparentemente chiunque può fare l'influencer, in realtà si utilizza solamente un giochino che qualcun altro ha creato, pensiamo a Instagram, no? E quindi dove è facile, come dire, utilizzare i metodi che Instagram ti dà a disposizione, l'hanno deciso loro, difficile è invece andare dietro e creare un altro Instagram per capirci o comunque far funzionare la propria azienda o il proprio business. Poi di solito questi corsi hanno spesso dei meccanismi in cui quando lo compri non basta mai, devi poi comprare quello dopo se vuoi capire quel qualcosa di più e alla fine diventa senza fine e ci si rende conto quando ormai è tardi. Il vero problema è, un'altra domanda che appunto è frequente, è come misurare la competenza. Innanzitutto è importante la competenza e quindi la capacità di uno. Dici ma chi è uno bravo, uno esperto da uno non esperto? Cioè come fai a saperlo? Allora, la competenza è diversa dall'esperienza, no? Io posso avere esperienza nel riuscire a costruire casa mia perché ho guardato due video o qualcosa e ho messo su dei mattoni e una casa è venuta su più o meno, ok? O essere un architetto, ok? O un ingegnere di le, dove invece hai la competenza per far sì che quella casa non cada, non hai l'esperienza di aver creato una casa e che fortunatamente non è caduta. anche se è un successo. Altra cosa, il discente, cioè chi segue i corsi, come può valutare un docente? Cioè il senso è che può valutare la sua capacità espressiva, può valutare la sua, come dire, come è andato il corso, può valutare la serietà, ma come può valutarne i contenuti? Quello purtroppo accade a posteriori perché infatti è pieno di docenti, tra virgolette, che ti insegnano cose che poi si scopre a essere magari illegali o borderline. Sicuramente una valutazione importante è quella del curriculum. Se uno nel curriculum ha solamente quello di aver fatto dei corsi o intervistato persone o prevalentemente quello, è evidente che poi non ha la competenza quella dell'architetto, per capirci, del settore. Anche perché sono, specialmente il marketing, il digitale, la comunicazione, sono professioni non regolamentate, cioè sono soggettive, è soggettiva la competenza. Diventa oggettiva quando, che ne so, appunto dico, da un chirurgo in quel caso regolamentata, ma senza arrivare fino a quelle regolamentate, uno che ti insegna programmazione in C, in Python, eccetera, chiaramente poi deve conoscere la propria materia con certezza perché altrimenti non saprebbe da che parte iniziare a spiegartelo. Dopo tre minuti si capisce che si è perso, non basta leggere un libro per insegnare a programmare in C o in Python per dire. Mentre fare l'influencer, imparare il marketing digitale è un tema un po' come dire, un po' ampio dove alla fine c'è spazio un po' per tutti, però non è un modello applicabile, al massimo ti racconta la propria esperienza e nella maggior parte dei casi è esperienza da venditore. Quali sono i pericoli più grandi, quelli che vedo più frequentemente nelle cose che mi mandate? Allora, perdere soldi, innanzitutto, è molto frequente, purtroppo, va via i soldi e rimane poca ciccia. Pratiche illegali, ho visto promuovere sistemi che poi erano schemi ponzi, quindi illegali, schemi piramidali, network marketing illegale, non è tutto illegale, ma c'è quello illegale. Ho visto gente serenamente, come dire, tra questi spiegare delle tecniche per vendere, che so, delle creme, ma tra le tecniche c'era anche fare il profilo di un finto dottore. Attenzione, perché sono cose poi illegali e possono creare grossi problemi. Per cui, fate tesoro della vostra esperienza, come dire, che avete accumulato nella vita, perché in fondo questo non è un mondo, è un mondo fatto di persone, quindi è simile. Magari di qualche suggerimento che ho dato io è sempre occhi aperti.